Sono l'agente speciale John Hartley, FBI. Vi monitoriamo da un po' di tempo. Ogni città, ogni colpo. Ora che siete marchiati con un codice rosso, siete i criminali più ricercati al mondo. Sono l'unico che può sbattervi dentro. Oh, no, no, no. Bella quella giacca, è un capo importante. Riesco a sentire un vitello nudo sussurrare, ne fa salapena. Cercate qualcosa in particolare o state solo guardando? Sei in arresto. Oh mio Dio, ma che modi! Vuoi arrestarmi? Arrestami. Io vorrei solo l'uovo, quindi... Aiutami a prenderla. Io aiuterò te. Siamo un team. Team! Team! Team, suona così strano quando lo dico. Ciao, ragazzi. Come va con il tuo complice? Siamo allegri e comari. Non siamo allegri e comari. Solo comari, allora. Non siamo niente di tutto questo. Sappiamo tutti e due che molto presto finirai con due belle manette. Promesse. Promesse. Bye-bye, agente John Hartley. Ciao, ragazzi. 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 Grazie a tutti.